tale quale show loretta goggi lascia dopo 13 anni ho bisogno di loretta goggi la tale quale show loretta goggi lascia la tale e quale show dopo 13 anni in un annuncio sorprendente loretta goggi ha dichiarato che dopo un totale di 13 anni terminerà la sua attività come giurata nella popolare trasmissione televisiva tale quale show questa decisione non è stata facile per lei ma ha sentito il bisogno di dedicarsi a nuove sfide secondo goggi il tempo trascorso nello show è stato molto arricchente ma la sensazione che sia arrivato il momento di provare un nuovo inizio dietale e quale show è diventata sin dalla sua prima edizione uno dei programmi di intrattenimento più amati in italia riunisce artisti talentuosi che si cimentano nel canto e nell'imitazione dei più recenti stili musicali secondo fonti goggi è stata una parte centrale del format e ha elevato il livello dello show con la sua esperienza e il suo carisma le sue dimissioni rappresentano quindi un grande cambiamento per il programma e i suoi fan verdiana zangaro che ha partecipato a una delle ultime edizioni e ha ricevuto molto riconoscimento per le sue performance si è espressa anche su questo importante cambiamento ha sottolineato che goggi è stata un'icona e una fonte di ispirazione per molti giovani talenti dello spettacolo i telespettatori avrebbero potuto trarre grandi vantaggi dalle sue conoscenze e dalle sue esperienze e la sua assenza lascerà un vuoto la prossima edizione della tale quale show 2024 si svolgerà senza goggi il che pone ai produttori la sfida di trovare un sostituto sostituto per il suo ruolo di fans e la giuria concordano sul fatto che la qualità dello spettacolo debba rimanere alta e sono curiosi di vedere come si svilupperà la dinamica senza la giurata esperta in mezzo a questi cambiamenti lo spettacolo invita a partecipare e punta ancora sulla qualità precedente e sull'entusiasmo del pubblico mentre alcuni fan sono tristi per la perdita di goggi c'è anche attesa per ciò che il futuro porterà mit nuovi talenti e probabilmente una nuova giuria la tale quale show potrebbe ricevere nuove energie con un sentimento agrodolce il pubblico saluta loretta goggi qualcuno che non è stata solo una voce nel settore ma ha anche incarnato il cuore dello spettacolo la sua presenza sarà molto mancata mentre tutti guardano con curiosità le novità autore anita faache sabato 21 settembre 2024 4 4 4 4 4 5 5 6 6